Eccoci in diretta, dovremmo essere in diretta per questo nostro secondo appuntamento che ricorda il centenario della nascita di Carlo Voitila. Abbiamo molti ospiti e alcuni devono ancora arrivare, allora per chi ci segue ovviamente su Facebook ve li presento, Carlo Tantonante da Torino, ci spiegherà lei perché è qui, perché lei a parte che ha fatto per noi il marchio, il brand di questi incontri che poi utilizzeremo nel riepilogo ovviamente di tutti gli incontri, ma non solo, ha avuto un'idea essendo a casa ed essendo come tutti noi suboccupata, diciamo così perché disoccupato è brutto, diciamo suboccupato, si è inventata una cosa molto particolare che ci dirà e ha fatto questo anche per noi. Diego Audero, penso che lo conosciate ormai, è il nostro storico, vedo che è arrivata anche Renata adesso e loro due sono le nostre voci, le nostre guide da Cracovia, Ugo Ruffino è il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, Stefano Andreotti da Roma invece che ci ha mandato, ci ha portato e vedremo con lui alcune foto e alcuni documenti perché ci parlerà del rapporto fra Giulio Andreotti e Giovanni Paolo II e poi abbiamo Cristiano Luccisano che già ci sta facendo vedere qualcosa che invece è a Lecombe, comune di Intrò in Valle d'Aosta dove c'è un museo dedicato a Giovanni Paolo II. Vedremo le immagini del museo da Lecombe e poi vedremo le immagini che invece Renata, una parte delle immagini che Renata ci ha mandato, una parte le vedremo il 18, da Cracovia vedremo i luoghi invece di Papa Voitila, di Karol Voitila quando non era ancora Papa e poi anche quando è diventato Papa, peraltro la volta scorsa Renata ci ha fatto vedere l'Università Yeghellonica e oggi abbiamo un documento che ci ha mandato invece Stefano Andreotti che ci ricollega alla Università di Cracovia, quindi poi vedremo. Allora Diego, ci fai un piccolo riassunto tu di quello che abbiamo fatto l'altra volta solo per chi l'altra volta non c'era? Molto molto brevemente. Nasce in quella mittele Europa sparita, distrutta dalla prima guerra mondiale, ma che in fondo lo influencerà, quella sua apertura verso culture, la convivenza con culture diverse nasce molto dal luogo dove è cresciuto sin da piccolo. Così come il contatto con la povertà, abbiamo raccontato che suo padre era un ufficiale dell'esercito austro-ungherese, lui rimane orfano di madre quando aveva solo 8 anni, lui muore il fratello maggiore quando non aveva 13 e quindi insomma vive la povertà di quegli anni, di una Polonia che sta rinascendo, di un'inflazione, della mancanza di lavoro. E poi un'altra esperienza fondamentale abbiamo detto è la seconda guerra mondiale, perché sarà durante la seconda guerra mondiale quando perde il padre, quindi rimane totalmente da solo di fatto sulla terra. Quando si avvicina alla vita religiosa attiva, lui profondamente religioso da prima della guerra, si trova a decidere se partecipare alla vita militare della resistenza come tutti i suoi compagni di scuola o alla vita spirituale. Aiutare la Polonia in che modo? E lo farà dopo un incidente mentre andava sul lavoro, lui che parteciperà anche, altro elemento fondamentale, al lavoro fisico in una miniera di pietra calcare, di calcare quando i nazisti obbligarono a tutti i polacchi a 20 più di 18 anni, 16 per gli ebrei, di trovarsi un lavoro. Anche il fatto di aver lavorato fisicamente avrà una profonda valenza nella sua vita. La guerra di per sé ha una profonda valenza nella sua vita, il rifiuto alla guerra che lo seguirà per tutta la sua esistenza. E poi la Polonia post-guerra, l'inizio dell'epoca del comunismo, una Cracovia, abbiamo peraltro anche raccontato della figura importante di Adam Sapieha, il suo padre spirituale, l'arcivescovo di Cracovia, come lui cresceva, sotto la protezione di questa figura che è importantissima, arcivescovo di Cracovia nei cinque anni del nazismo e arcivescovo di Cracovia nei primi cinque anni dello stalinismo, forse i dieci anni più duri della città. Lui nasce, si forma in questo seminario clandestino e molto lo formerà appunto. Vive poi quegli anni dell'interregno della mancanza di un arcivescovo a Cracovia, perché il Partito Comunista non permette l'elezione di un arcivescovo metropolita di Cracovia, lui sarà il primo dopo un interregno di quasi 16 anni. E diventa di fatto l'arcivescovo di Cracovia in un momento molto delicato, perché siamo dopo il fallimento dell'epoca di grandi riforme dell'est Europa, i cari armati sovietici che entrano a Praga e fermano, l'evoluzione del socialismo crea una faccia più umana. Siamo in un'epoca difficile per Cracovia, le grandi lotte hanno vauta per la costruzione dell'unica chiesa presente in un quartiere che doveva essere senza fede, un quartiere che rappresentasse gli ideali del comunismo, le grandi acciaierie Lenin, i grandi casermoni dove vivevano gli operai, ma non ci doveva essere la fede. Lui invece lotterà sin da subito perché veniva costruita questa chiesa. E poi l'elezione a Papa, ci siamo arrivati in qualche modo, è un'epoca molto complessa, ricordiamo la morte di Papa Luciani dopo soli 33 giorni che aveva impressionato il mondo della chiesa. Siamo in anni complicati, siamo dopo, perché lo ricordavamo in questi giorni, l'uccisione di Moro, gli anni del terrorismo in Italia. Sono anni molto molto duri. L'Occidente, l'Italia soprattutto, perché Caro Volitiva sarà il primo Papa straniero dopo 450 anni. Un'Italia molto concentrata sulle sue dinamiche, appunto, la lotta al terrorismo. Una rottura anche all'interno del papato, perché ci sono diverse correnti, fanno sì che ci sia lo spazio perché arrivi il Papa straniero. E l'importanza dell'elezione di un Papa polacco, per questioni politiche, l'abbiamo detto. Il Papa che arriva dall'est a quei paesi che non sono totalmente liberi, in un'epoca in cui il comunismo, appunto, dopo le fratture del 68, stava già entrando in una fase di dissoluzione quasi per eutanasia, poco a poco, poco a poco, poco a poco. E poi l'abbiamo detto di non soffermarci però solamente sulla parte politica, della parte del comunismo, era anche un'idea nuova di papato. Il Papa che scende in strada, no? E qui arriva la scuola di Sapieca, un Papa che non è più chiuso fra le quattro mura di Roma, ma che sa scendere in strada, una nuova evangelizzazione della strada. Sarà il primo Papa che viaggia in Africa, per esempio. Un Papa che passava più tempo fuori da Roma che non a Roma, no? A contatto con il popolo. E' quello che la Chiesa si apre al mondo. E se oggi pensiamo che il cristianesimo è molto più forte e radicato fuori dall'Europa che non in Europa, quella visione di Papa Giovanni Paolo II, con quasi trent'anni di anticipo, no? Fa capire dove stava andando la Chiesa, no? Apre il cammino, perché la Chiesa non sia romacentrica, europocentrica, ma che si apre effettivamente al mondo, no? Questo è il suo percorso, adesso devo farlo in quattro minuti e di più non si poteva fare, però parte esattamente dalla sua infanzia e arriva fino a questo Papa. Se avremmo detto che un limite c'è stato è stata la durata del suo pontificato, no? Che ha messo in luce le sue deficienze, per esempio l'incapacità di gestione. Era un Papa che non sapeva perché non gestire, era un Papa che amava delegare per preoccuparsi al contatto con la gente, a parlare al mondo e a parlare direttamente negli occhi, aveva poca capacità di gestione. Ed è chiaro che in un pontificato così lungo, aggravato poi alla fine della malattia, tutti questi problemi sono poi venuti al pettine nella fase finale dopo la morte di Giovanni Paolo II, no? Se vogliamo trovare un limite questo sicuramente lo è stato. Sì, lo abbiamo detto, infatti l'altra volta è stato un grande Papa, un grande comunicatore, forse un po' meno per l'organizzazione di quella Chiesa romana in generale, soprattutto per quella che era la parte della Chiesa romana, che era un po' la parte importante. Giovanni Paolo, cioè Carol Voitiva che diventa Giovanni Paolo II, diventa Giovanni Paolo II e a Roma in particolare deve fare i conti non solo con la Chiesa romana ma con il governo romano e qui entra in gioco Stefano Andreotti. Stefano Andreotti perché ci ha mandato alcune immagini, adesso io poi ve le faccio vedere, perché il rapporto di Giovanni Paolo II con le istituzioni e Giulio Andreotti ha rappresentato in quegli anni in modo particolare l'Italia con diversi incarichi. Il rapporto non era solo un rapporto istituzionale, era anche un rapporto personale, non solo istituzionale. Quindi c'è questo tipo di rapporto particolare fra Giulio Andreotti e Giovanni Paolo II, cioè quel Carol Voitiva diventato vescovo, arrivato lì a Roma in un ambiente insomma difficile da gestire e peraltro accumunati entrambi dalla stessa passione, se vogliamo, la politica internazionale. Perché entrambi, abbiamo detto Giovanni Paolo II amava viaggiare per il mondo, per Giulio Andreotti la politica internazionale era l'essenza della sua vita. Qual era questo loro rapporto Stefano? Guardi, intanto mio padre nella sua lunghissima diciamo vita terrena e la vita anche diciamo professionale politica poco meno lunga è stato il primo papa diciamo da quando lui ha fatto politica con il quale lui non avesse avuto rapporti prima, perché mio padre aveva avuto con Pio XII addirittura dei ricordi di quando Pio XII era bambino, mio padre scusate era bambino e Pio XII andava a trovare un parente che abitava nella casa vicino a mio padre. Aveva avuto dei grandissimi rapporti con Giovanni XXIII ma soprattutto con Paolo VI perché Paolo VI quando mio padre ai tempi della guerra era nella FUSCI quindi nell'organizzazione universitaria cattolica della quale era stato presidente prima a Moro e proprio a Moro subentrò mio padre, l'assistente spirituale era quello che sarebbe poi diventato Paolo VI quindi Montini. Giovanni Paolo II lo ha conosciuto come tutti gli altri, come me, come tante altre persone non ho conosciuto, io non l'ho conosciuto altro che una volta, ma diciamo abbiamo saputo chi era nel momento in cui è divenuto Papa e il suo primo ricordo di Giovanni Paolo II era la visita, lui in quel momento era presidente del Consiglio quindi fu fatta una visita ufficiale e in quell'occasione lo conote. mio padre scrisse anche una lettera, non so se ve l'ho mandata tra quelle che vi ho anticipato, una lettera in cui mio padre appunto gli dava diciamo il benvenuto ufficiale come Papa, c'è una lettera molto bella del Papa di risposta di un paio di mesi dopo quindi siamo nella seconda parte del 1978. Diciamo nei primi tempi probabilmente è stata anche un piccolo diciamo problemino dato da questo, mio padre in quegli anni era il presidente del Consiglio di un governo che in qualche modo aveva aperto al Partito Comunista prima in una forma diciamo di attenzione e poi di supporto anche se i comunisti non entravano nel governo votavano a favore e c'era stato diciamo qualcuno che aveva riferito a mio padre un po' di freddo da parte del nuovo Papa che probabilmente del Partito Comunista Polacco aveva delle idee un po' più negative di quello che era il Partito Comunista Italiano che si stava evolvendo verso un'apertura all'Alleanza Atlantica, all'Europa quindi stava un pochino cambiando pelle. Però diciamo da quel momento i rapporti con Giovanni Paolo II sono stati davvero molto molto assiduti ed erano rapporti ufficiali perché lo ha incontrato in decine di circostanze questa è una visita all'abbazia di Monte Cassino l'ho incontrato tantissime volte e l'ho incontrato tante volte anche privatamente perché come hai accennato prima Papa aveva una particolissima attenzione al mondo e in particolare chiaramente alla sua Polonia e mio padre in quegli anni dopo essere stato Presidente del Consiglio è stato per tre anni senza incarichi particolari poi dall'83 all'89 è stato Ministro degli Esteri e poi di nuovo Presidente del Consiglio teniamo conto che negli anni Ottanta comunque questa è una foto incredibile fatta probabilmente ad un nuova antelucana che mio padre si alzava prestissimo e probabilmente anche il Papa e questa è Piazza San Pietro quasi vuoto e dicevo in quegli anni lì c'era l'apertura di quello che erano i primi passi verso quella che sarebbe poi stata l'apertura all'est Europa quindi con la disintegrazione poi della vecchia Unione Sovietica e il ruolo che l'Italia svolgeva nei confronti della Polonia era un ruolo molto particolare quindi mio padre aveva occasione direttamente e indirettamente di avere tantissimi contatti con la Polonia l'ha visitata più di una volta tutte le volte che aveva dei contatti normalmente andava a trovare il Papa e di questo abbiamo le tracce di tanti appunti, diari eccetera eccetera e chiedeva al Papa sempre se ci fossero diciamo dei consigli o delle cose particolari per l'azione verso la Polonia e viceversa quando tornava poi dalla Polonia aveva modo poi di andare in Vaticano a cena spesso oppure ricevuto in maniera privata per raccontare quelle che erano le evoluzioni era il periodo di Solidarno quindi con le difficoltà che aveva in quel periodo Solidarno il generale Jaruzewski che era il presidente della Polonia quindi questo rapporto si è nato questa è mia madre con Papa questo dà la dimensione anche del rapporto personale che c'era non solo istituzionale abbiamo due foto belle abbiamo un rapporto molto bello molto aperto noi abbiamo tantissime lettere un po' ve ne ho mandate sono le lettere che si scambiavano anche degli auguri di Natale o di altre circostanze il Papa è stato sempre molto vicino a mio padre anche in anni non facili mio padre ha avuto questa vicenda giudiziaria che è durata una vita dal 92 al 2003 e il Papa è sempre stato vicino ci sono delle lettere bellissime in cui lo spona a mantenere la serenità gli dà coraggio un rapporto veramente molto 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 particolare questa bambina che vediamo nella foto chi è? è la figlia di mia sorella e questa era una domenica di Pasqua mi pare che fosse o l'88 o sì mi pare fosse dell'88 e mio padre era andato tra l'altro c'era presente anche il sottosegretario di Stato Schultz quel giorno che aveva la moglie cattolica e quando poteva fece due o tre Pasquo e assieme a mio padre all'audienza e alla messa del Santo Padre è bello quindi veramente un rapporto molto molto stretto fino agli ultimi giorni di Giovanni Paolo II certo fra le lettere che ci hai inviato adesso volevo farne vedere una questa adesso che dovrebbe arrivare eccola qui questa intanto è una benedizione apostolica siamo nel 79 qui quindi questa era quasi all'inizio del pontificato del pontificato ma poi dicevi tu avevano un ottimo rapporto adesso lo vedremo perché e qui mi collego a quello che ci ha fatto vedere Renata la volta scorsa eccolo qua la laurea onoris causa a Cracovia ricevuta a Cracovia quindi laddove ricorda giustamente Carol Vojtiva laddove lui è stato prima studente poi docente ce l'ha fatto vedere bene nel racconto del che fa mio padre nella cerimonia diciamo in cui fu consegnata la laurea onoris causa all'università di Cracovia il rettore di Cracovia fece un grande discorso teniamo conto che siamo ancora in anni in cui la Polonia aveva Jaroszewski quindi ancora era comunista e c'era presente anche Jaroszewski nella cerimonia fece un discorso in cui dette grandi lodi di due polacchi che si erano distinti andando poi nel mondo in particolare in Italia e uno era Copernico e l'altro era appunto Giovanni Paolo II Certo quindi e poi abbiamo ancora un'altra lettera che ci hai mandato adesso vediamo di arrivarci perché dicevi è stato un rapporto anche personale sempre questo per l'ottantesimo compleanno 80 anni di mio padre quindi ci troviamo nel 99 Certo quindi a testimonianza di un rapporto personale importante tenete conto anche che chiaramente oltre che il rapporto col Papa mio padre aveva un rapporto non dico quotidiano ma quasi con il cardinale Casaroli con Monsignor Silvestrini che erano segretari di Stato ed erano i due che facevano la politica estera del Vaticano che era diciamo in quegli anni andava verso l'apertura il più possibile il tentare di porre fine alla famosa guerra fredda e in questo la politica italiana è stata perfettamente allineata o quella Vaticana allineata con l'italiana erano parallele gemelle certo allora io vedo che in questo momento si vede bene Cristian Lucisano dalle Combe allora ne approfitterai perché lì la linea va e viene in questo momento però mi pare che sia buona che io ne approfitterai per andare alle Combe per vedere invece il Papa il Papa Montanaro il Papa Cristian ci fai vedere un po' questo museo ok intanto vi racconto la storia che riporta il Papa Giovanni Paolo II in Valle d'Aosta allora lui nell'89 fa una visita pastorale e chiede all'allora Vescovo Monsignor Vigiorari di poter venire qua in vacanza e ci verrà per dieci volte dal 91 al 2004 visitando ovviamente il Monte Bianco il Gran Paradiso il Cervino e celebrando Messa poche volte perché ovviamente era in vacanza però ad esempio a Cogne e qua sul qui qui alle Combe dove c'è il prato che adesso è letto il luogo del Santo Padre la parte sotto ma la linea sotto il proleggio per cui il fioccio deve passopra allora giro la telecamera vediamo eccolo questo è allora qui c'è un'immagine di San Giovanni Paolo II ma le cose più interessanti sono in questa teca dove è conservato il calice che lui ha usato qua alle Combe per celebrare Messa la casula che lui ha usato sempre qua alle Combe vicino ci sono dei regali dati da varie parti del mondo e ce n'è uno un po' particolare che adesso vi faccio vedere e poi vi faccio vedere altre cose sempre interessanti questo manufatto non so se si vede la bellezza però è un è un altarino in madreperla traforato in tagliato dono di Yasser Arafat si vede la la resurrezione adesso cerco di far vedere un po' meglio solo che dentro la teca allora non mi posso avvicinare tanto e il cenacolo poi cosa interessante sempre riguardo alla sua visita in Valle d'Aosta è l'acciaccavento che lui ha usato sul monte bianco le scarpe che gli sono state regalate per andare a fare le prime passeggiate che l'hanno dovuto trovare più o meno simil bianche e questa è una una casula regalata da una signora giapponese che a cui è stato fatto un miracolo da parte di San Giovanni che gli aveva stato regalato quando gli era ancora in vita e cose poi vabbè ci sono all'interno del museo ci sono le foto dei suoi viaggi adesso mi avvicino un po' a varie cose particolari tipo i monaci buddhisti e quello zaino che voi vedete adesso vi faccio vedere è lo zaino che li portava in giro perché a volte cioè lui ovviamente senza dire niente in giro si faceva le passeggiate qua intorno in quella da Osta e lui aveva il suo zainetto personale con gli vari attrezzi e vi faccio vedere anche di qua che sono particolari tipo c'è il porta stuzzicamenti il peperoncino il sale la padella per far da mangiare le posate addirittura le apre bottiglie e questo museo è è stato fatto nel 97 quando il Papa era ancora in vita infatti lui l'ha visitato ed è stato incrementato anche con i doni fatti dal Cardino Albertone di vari oggetti e libri da lui è molto particolare molto carino molto carino e molto particolare perché sono le testimonianze di quello che il Papa utilizzava quando era lì in Valle d'Aosta e si collega la sua passione per la montagna che aveva già quando era giovane qua in Polonia poi qui ci sono anche adesso ci sono le preghiere ovviamente una volta erano quando lui era in vita non erano preghiere ma erano solo dediche fatte al Santo Padre e in particolare noi teniamo di conto una dedica fatta da Benedetto XVI perché anche Benedetto XVI è stato due volte qua in Valle d'Aosta e ha firmato con una dedica il libro che vi ho fatto vedere prima poi ci sono anche dei ricordi Papà Francesco non va in vacanza? No Giovanni Paolo II è stato Giovanni Paolo II è stato lì per dieci volte fra l'89 e il 2005 per dieci volte è andato in vacanza lì quindi era innamorato di quella montagna Scusate aveva chiesto apposta al Vescovo perché le montagne qua attorno gli ricordavano le sue montagne in Polonia Poi ci sono anche dei ritratti e dei ricordi che arrivano da Vadoviz e da Cracovia chi è lì a Cracovia in Polonia riconoscerà la foto della mamma di San Giovanni Paolo II che secondo me è più bello il quadro della foto però sono gusti personali Ma se non sbaglio l'ultima volta che è venuto aveva già dei problemi fisici piuttosto evidenti è stato nel 2004 non si poteva muovere aveva praticamente rimasto rimaneva nella sua casa dove c'era questo all'inizio c'era questo crocifisso perché lui è stato in due case perché almeno vedo ecco praticamente lui è stato in due case una privata e poi è stata attrezzata una casa da parte dei una casa di proprietà dei Saresiani è stata attrezzata per lui e lui di così riposava nell'ultimo le ultime due volte io direi non solo l'ultima volta ma anche le ultime due o tre volte si vedevano si vedeva che gli stava male nel 2004 non si muoveva per niente poteva la poltrona per vedere il monte bianco e per ricevere gli ospiti e basta non faceva più passeggiate né niente mentre prima qualche passeggiatina la faceva lo stesso ma con il bastone non purtroppo con la malattia che procedeva e lo affliggeva è venuto mai a sciare in Val d'Aosta o solo d'estate solo d'estate il suo posto preferito per andare a sciare il Terminillo il Terminillo più che altro dove dove l'Aquila andava qualche volta andato sì ma a volte scappava anche senza dire niente andava a sciare così tanto che faccio un po' vedere nella mattina andava a sciare non lontano da Roma sì beh negli anni 80 negli anni 80 veniva anche a Cracovia di nascosto per andare sulla tomba dei suoi genitori ci sono queste storie negli anni 80 in cui di nascosto lunedì mattina veniva portato a Cracovia a vedere la tomba dei genitori lui usciva anche di nascosto dal Vaticano qualche volta la sera immaginate oggi con Facebook come sarebbe e poi un altro mondo oggi ti prenderebbero dopo 5 minuti per esempio quello che fa la forza della forza su Facebook non vestito chiaramente da Papa si vestiva in un modo normale si faceva accompagnare in giro per Roma di nascosto la sera qualche volta io so che lo faceva benedetto sedicesimo lo fa anche Papa Francesco però ovviamente è un po' più difficile adesso è impossibile pensate ai tempi di Pertini e Giovanni Paolo II la sicurezza a Roma impazzivano perché Pertini era un altro che usciva per conto suo siamo andati anche a sciare assieme sono fatto la fuga assieme sono andati a sciare io immagino quelli della sicurezza il Papa che usciva da solo il Presidente che usciva da solo va lì a cercare ma tu immagini Elso immagini negli anni 80 quando veniva a volte di nascosto per andare sulla tomba dei genitori in un paese comunista se gli fosse successo qualcosa scompiava la terza guerra mondiale hanno ucciso il Papa quindi immaginati anche tu lo stress dei dirigenti del Partito Comunista Polacco di Eroseschi che sapevano perché chiaramente lo sapevano che c'era questo viaggio nascosto per andare è una cosa no? no no fuori dal mondo oggi sarebbe improponibile impensabile ecco qua c'è un'altra bella foto non so se riconoscete ma no? chi c'è a sinistra? no non la riconosciamo ma arriva malissimo l'audio quindi è Lucia di Fatima ah ecco ecco chi perfetto beh qua c'è e qua Arafat abbiamo anche delle foto che non c'entrano tanto con i suoi viaggi in montagna ma comunque certo ce l'avete una foto lì con Andreotti? no ecco manca una foto con Andreotti allora Stefano gliela devi mandare vedi Stefano te la manderà sicuramente perché lui ne ha a bizzeffe e non può mancare una foto con Andreotti al museo di Lecom non può mancare però quella tomba di cui dicevi Diego adesso la vedremo perché Renata è andata vero? su quella tomba fra le chiese che ci fai vedere prima hai anche la tomba dei genitori quindi vedremo anche quello adesso non so cosa Renata vi farà vedere però qui a Cracovia abbiamo anche il vestito del Papa durante l'attentato quindi quello ancora macchiato di sangue e qui a Cracovia appunto se non sbaglio l'hanno spostato però nel centro Giovanni Polo II giusto Renata? adesso non voglio dire una stupidaggia nella parte superiore ma quando ero stata era chiusa questa parte era chiusa sì sì forse devo tornare per far vedere perché la stola la stola è a Cestokova davanti al quadro della Vergine Nera di Cestokova c'è appunto come si chiama quella che porta sul collo il Papa Bianco la stola con la macchia di sangue e poi c'è se non sbaglio anche nella corona della Vergine Nera di Cestokova incastonato il proiettile dovrebbe essere incastonato nella corona della Vergine di Cestokova quella di Fatima quella di Fatima ok ok esatto però qui a Cracovia abbiamo appunto il vestito quello dell'attentato sì ma adesso poi più avanti vediamo il video vedremo la tomba dei genitori che Renata ci fa vedere e alcune delle chiese poi nell'appuntamento del 18 vedremo l'ultima parte del filmato di Renata e vedremo fra l'altro dove lavorava Diego faceva vicendo al lavoro scavava scavava in una cava quindi e vedremo Nuova Uta e le ultime battaglie del Vescovo allora ancora di Cracovia Renata è andata a farci vedere Nuova Uta la chiesa la croce è un masso particolare è la prima volta che vedo un masso che diventa monumento ma c'è un perché Renata poi ce l'ha spiegato nel suo video ovviamente alle con vedo avete anche la foto con Maria con madre Teresa di Calcutta sì abbiamo infatti ho fatto vedere questa perché le foto più belle della Valle d'Aosta sono nel piano sotto che è su due piani in un museo però la linea è alta e allora preferisco non andare sotto per evitare certo 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 molto bene intanto abbiamo scoperto che c'è questo museo e ti ringraziamo per averci fatto conoscere questo museo poi abbiamo di fatto costretto un'altra ragione per andare a vedere la bellissima Valle d'Aosta eh infatti un'altra ragione esatto poi abbiamo di fatto impegnato Stefano Andreotti a farvi avere una foto con Giulio Andreotti quindi implementerete anche il vostro museo allora visto questo prima di passare a Carlotta perché Carlotta ha fatto per noi un logo particolare ma ha fatto delle cose particolari prima volevo provare a farvi vedere questa parte di video che ha fatto Renata così poi Renata ci spiega anche che cosa manca ancora perché ce l'abbiamo già Renata ce l'ha già mandato però ci siamo voluti tenere qualcosa per il 18 perché il 18 avremo Alessandra Ferraro sempre da Osta che è una giornalista che ha seguito sempre praticamente Giovanni Paolo Secondo in Valle d'Aosta e ci racconterà i suoi incontri con Giovanni Paolo Secondo mentre domani alle 10 del mattino avremo Don Genesio Tarasco che era l'economo dei Salesiani e quindi l'economo ai tempi anche di Giovanni Paolo Secondo quindi un'altra testimonianza diretta con Giovanni Paolo Secondo allora se io riesco sempre se riesco vi faccio vedere una parte di quello che ci ha mandato redata da Cracovia vediamo Nella parte nuova del cimitero Rakovitski a Cracovia è situata la tomba dei genitori di Karol Wojtyla della famiglia Wojtyla Kaczorowski qui sono sepolti i genitori di Karol Wojtyla fratello maggiore Edmund e nonni materni durante ogni sua visita apostolica a Cracovia Karol Wojtyla visitò la tomba del genitorio il primo monumento dedicato a Karol Wojtyla in Polonia si trova nel cortile del palazzo Vescovino questa statua è stata regalata dalla amica di Karol Wojtyla Giolesensi Croci in occasione del sessantesimo anniversario del suo compleanno il monumento era dedicato ai giardini di Vaticano da qui la statua ha altezza pari altezza naturale di Karol Wojtyla così il Papa ha detto che i giardini di Vaticano sono troppo piccoli per avere due Karol Wojtyla e così questo monumento mandò a Cracovia era 1980 i tempi del sistema di socialista allora non c'era la possibilità di collocare il monumento del Papa al posto pubblico e il monumento fu collocato nel cortile dove rimane fino a Poggi fino a Poggi inginocchiato con un rosario in mano rivolto verso la tomba dei genitori la cattedrale di Wawel dedicata a San Stanislaw e a San Wenceslaw è la prima chiesa importante in Polonia da secoli trattata come simbolo della nazionalità polacca perché qui sono sepolti quasi tutti i regnanti polati qui sono stati celebrati 37 in coronazioni qui sono sepolti anche eroi nazionali vati nazionali tanti vescovi e sacerdoti Karol Wojtyla era molto legato alla cattedrale qui ha celebrato la sua prima messa dopo ordinazione sacerdotale il 2 novembre 1946 e la messa era dedicata ai morti genitori e fratello qui Karol Wojtyla era consacrato vescovo e poi arcivescovo nel 1979 pregava davanti alle reliquie di San Stanislaw in occasione del novecentesimo anniversario della morte del santo poi nel 1987 celebrò una messa solenne davanti alla croce di Santa Elvige beatificata quell'anno e poi dieci anni dopo canonizzata nel centro della cattedrale sotto reliquario con le reliquie di San Stanislaw si trova un altro reliquario con la goccia del sangue di San Giovanni Paolo II questo reliquario con la goccia alla forma del libro Vangelo perché questa forma ricorda il momento delle cerimonie funebri a Vaticano quando il vento girava le pagine del Vangelo sopra la bara del papo Maroccia è il posto del culto di San Stanislaw patrono della Polonia Stanislaw era vescovo di Cracovia nel XI secolo lui si trovò in conflitto con il re Boleslaw Lardito il risultato di questo conflitto fu ucciso secondo ordine reale quando celebrava la messa nella chiesa sulla roccia allora la chiesa aveva un'altra forma c'era una piccola chiesa nella forma della rotonda fatta in pietra calcarea questa è la terza chiesa in successione dopo il corpo di San Stanislaw fu squartato e dopo un tempo in un modo miracoloso secondo la tradizione i pezzi del corpo furono riuniti dici anni dopo la morte i resti di Stanislaw furono trasferiti nella cattedrale di Babel e nel 1253 Stanislaw fu canonizzato ad Assisi dopo la morte di San Stanislaw ogni re prima dell'incoronazione era obbligato a fare pellegrinaggio d'espiazione dalla cattedrale di Babel fino alla chiesa sulla roccia e questa tradizione è continuata fino ad oggi ogni anno la prima domenica dopo 8 maggio il giorno dedicato a San Stanislaw è organizzata una processione con la partecipazione dei abitanti e dei vescovi di Cracovia Karol Wojtyla quando era vescovo e arcivescovo di Cracovia era organizzatore e partecipante di queste processioni la chiesa la chiesa sulla roccia dedicata a San Stanislaw e San Michele Arcangelo dal XV secolo appartiene ai paolini adesso siamo davanti all'altare di tre millenni eretto in occasione del settecentesimo anniversario della legalizzazione dell'ordine dei paolini vediamo sette pilastri davanti ognuno è collocata la statua che rappresenta un santo polacco legato alla storia di tre millenni della colonia vediamo anche la statua che rappresenta San Giovanni Polo II e la terza da destra davanti alla chiesa è collocato un monolito alto di sette metri costruito sulla pianta triangolare ogni parete rappresenta un millennio della storia della Polonia legato a un santo e un sacramento una delle pareti è legata a San Giovanni Paolo II terzo millennio e sacramento di comunione a causa dell'afflusso di tanti pellegrini di tanti pellegrini ci fu bisogno costruire una chiesa più grande e nel 1997 Karol Wojtyla durante una delle sue visite a Cracovia benedisse la pietra angolare del futuro tempio poi nel 2002 consacrò il santuario della divina misericordia questo più grande e allo stesso tempo pronunciò l'atto dell'affidamento del mondo alla divina misericordia il santuario della divina misericordia di Wagimikiki è collocato presso il convento delle suore della madonna della divina misericordia nella cappella conventuale dedicata a San Giuseppe si trova il famoso immagine Gesù confido in te dipinto secondo la visione di Suor Faustina dentro la cappella si trova anche il corpo di Suor Faustina durante la seconda guerra mondiale Karol Wojtyla operaio del vicino stabilimento Solvay veniva spesso nella cappella per una preghiera e per celebrare le messe nei anni sessanta diresse il processo informativo relativo alla vita di Suor Faustina nel 1985 chiamò questo luogo il centro del culto della divina misericordia il centro di Giovanni Paolo II non abbiate paura fu eretto sul terreno dove venivano accumulati i resti chimici rimasti dalla produzione della zona ammoniacale del vicino stabilimento Solvay questa colina creata in modo artificiale si chiama i mari bianchi a causa del colore delle sostanze chimiche la missione del centro non abbiate paura è la creazione della memoria viva della persona e delle opere di San Giovanni Paolo II questo centro è composto dai vari edifici a parte la parte più importante il santuario di San Giovanni Paolo II ci sono tanti altri edifici dove si trova centro conferenze museo istituto del dialogo interculturale parco delle meditazioni centro riabilitazione e anche la torre questo era una parte di quello che ovviamente ci ha mandato Renata la parte più interessante l'abbiamo lasciata per il 18 ovviamente intanto saluto anche Daniela Fazzolari che ci ha raggiunto ciao Daniela ciao ciao Renata anticipaci senza dirci troppo che cosa abbiamo ancora da vedere perché ti ho vista in interni che non ho capito bene quali sono e poi ci fai vedere invece dove ha lavorato Carol Voitila io ho fatto vedere interno del santuario di San Giovanni Paolo II con la lapide funebre portata dalle cripte di Vaticano a Cracovia dopo beatificazione di Giovanni Paolo II e anche la cappella principale di questo la cappella delle reliquie dove si trova l'altare fatto in marmo di Carrara con una scatola in vetro e dentro c'è un'altra goccia del sangue di San Giovanni Paolo II forse ma mi dispiace che non è tutto fatto in modo perfetto perché anche non si sente bene la mia voce in questa parte dove sono dentro perché non volevo disturbare i pregatori poi non so se si può anche sfruttare questo e presentare vediamo io non so non so come secondo me è morto dissanguato perché solo a Cracovia abbiamo tre tre liquidi sangue non so quante ce ne siano al mondo ma mi hanno raccontato che che appunto c'è un'altra ho visto sì sì a Cracovia abbiamo tre giusto due in cattedrale più quella a Vadovizia c'è un'altra poi nelle miniere di sale di Vilicica secondo me ce n'è anche una no si racconta che ci sia Gilles dietro che le smercia sa che le vende però no vabbè ma noi abbiamo l'abitudine con le reliquie noi abbiamo quelle di San Giovanni Bosco con la mano che gira di San Giovanni Bosco che è una reliquia che mi fa sempre impressione pure quello è c'è la mano di San Giovanni Bosco che ogni tanto viene portata in giro però allora noi avete il sangue ma sì quindi bisognerebbe riuscire magari facendo questi incontri lo raggruppiamo tutto riusciamo a capire quanta roba c'è in giro veramente però vuol dire che veramente era un papa è stato un papa amato da tutti e che ha viaggiato ovunque oltretutto e questo è una delle cose più importanti Daniela l'abbiamo salutata poi la sentiremo io volevo poi ritorniamo a bomba a parlare un po' prima di poi chiudere ovviamente di questi rapporti fra Cracovia Roma entrò del papa che erano poi voglio dire rapporti personali noi parliamo di Giovanni Paolo II come di un papa che ha girato il mondo e nel girare il mondo però è rimasto profondamente legato a quello che amava la sua terra Cracovia la montagna le comb ci è andato per dieci anni e i rapporti personali Roma ci spiegava giustamente Stefano Andreotti che aveva comunque questi rapporti personali con Giulio Andreotti ma con anche altri ovviamente perché continuava a interessarsi di quello che succedeva nella sua terra negli affetti che aveva personali prima di tornare a questo però volevo farvi vedere questo logo che ci ha fatto Carlotta perché voglio chiamare un po' Carlotta che fino adesso ho fatto da spettatrice ed è il logo che useremo di qui in avanti ma poi Carlotta ci farà vedere qualcos'altro allora questo eccolo qua questo è il logo che useremo per i cent'anni che ha disegnato Carlotta Carlotta ha 26 anni fa la grafica ovviamente farebbe volentieri la grafica se si potesse fare anche di questi tempi vero Carlotta? ma in realtà buongiorno a tutti innanzitutto in realtà io ho studiato tutt'altro nel senso che io ho fatto mi sono diplomata in grafica ma ho studiato arte principalmente quindi stavo lavorando ecco in Veneto mi ero trasferita da poco per iniziare a lavorare e poi con l'emergenza che c'è stata ovviamente abbiamo come tantissime altre persone è mancato il lavoro e di conseguenza ho provato un attimo in questo periodo di quarantena a mettere un po' le mie competenze e provare a reinventarmi e ho provato appunto a riutilizzare la mia passione tra virgolette che è la grafica quindi ho realizzato un piccolo progetto mi sto presentando brevemente ho realizzato questo piccolo progetto per la mia città per Torino anche se sono in quarantena a Venezia quindi completamente a distanza e per aiutare i cittadini ma allo stesso tempo per strappare un sorriso quindi ho realizzato tramite la grafica ora provo a farveli vedere non so se un progetto che si chiama Bucanene Stacà che in piemontese vuol dire restacare sì è fatto è fatto provo a farci vedere qualcosa per farti capire ho realizzato ho diviso i quartieri della città ora proverò a farvi vedere questa non so se la vedete eh sì bene benissimo sì bellissimo e ho cercato di appunto tramite i brand più famosi di dividere la città nei 34 quartieri e dare a ciascuno un logo quindi questo per appunto strappare un sorriso alle persone ma allo stesso tempo vedo un attimo perché ne ho altre vediamo cos'altro ma bello perché questa creatività bello bello guarda alla guardia della play arrivo subito perché ok non so se si vede sì certo ok riconosciamo noi che siamo di Torino a Santa Rita peraltro Daniela tu sei a Roma adesso ma tu sei torinese sì 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 quindi li conosci i quartieri di Torino e beh direi di sì infatti guarda è bellissima questa cosa è bellissima questo progetto inizialmente in Napoli sì sì molto bello parella 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 con la Pirelli la Pozzostrada con la Playstation avevo provato a fare Ugo fateli fare su Napoli ho fatto barriera con barriera e quindi ho cercato di appunto giocare su questo su questo lato però allo stesso tempo visto che era un'iniziativa che avevo visto nata appunto a Milano ho cercato di unire appunto la parte divertente con la parte sociale e che aiutasse i cittadini quindi ho creato una piccola brochure dove all'interno appunto è divisa per quartieri divisa per circoscrizioni però all'interno ci sono tutte le attività commerciali di Torino che effettuano il servizio a domicilio così appunto chi era interessato appunto ad effettuare un servizio a domicilio poteva essere inserito gratuitamente ovviamente dentro la brochure e promuovere questo loro servizio così per dare un piccolo aiuto a queste attività che in questo periodo sono molto sono in difficoltà e in più ecco per unire una mia passione perché comunque allo stesso tempo per me era divertente poi a Torino ho avuto un bel successo perché appunto è stato divertente quindi sia ragazzi che appunto signori è piaciuto molto e ho ricevuto degli articoli su alcune testate di giornali e quindi da lì poi il signor Bozzello mi ha mi ha contattata e mi ha chiesto appunto di fare il il nostro logo sei finita sulla stampa sei finita sui giornalini sì è finito è finito ovunque e ha fatto il nostro logo vai vai ho creato ne ho creato uno per Castellamonte non so se si è questo certo con la Cappare per appunto sempre per per l'associazione e poi il logo appunto quello che abbiamo visto prima che adesso vi riapro certo lo abbiamo di qua eccolo qui eccolo qui sì certo ecco con questo logo ho cercato appunto di ho cercato di unire di farlo con uno stile semplice e moderno allo stesso tempo senza utilizzare una foto ma un disegno che fosse comunque leggero ma anche profondo e quindi ho cercato anche di unire di utilizzare questi tre colori che come vedete sono il bianco il rosso il giallo che caratterizzano appunto la figura anche di Giovanni cioè di Papa Wettila il rosso e il bianco che ricordano appunto la Polonia e il giallo che appunto è utilizzato appunto sì per il cerchio che circoscrive la figura del del Papa ma allo stesso tempo appunto ricorda la bandiera del Vaticano quindi i colori il giallo e il bianco e in più l'ho rappresentato con attraverso il suo aspetto umano quindi attraverso ho deciso di inserire appunto un gesto che in questo momento ci manca molto che può essere un abbraccio e appunto tutto questo logo gira intorno ad una frase che ho inserito poi in una cartolina che ho realizzato certo te la faccio vedere io la cartolina ce l'hai tu ce l'hai tu va bene ero andata perfetto e appunto ricordare il passato per abbracciare il futuro quindi brava le figure che ci sono ci sono appunto il Papa viene rappresentato come Papa ma allo stesso tempo come uomo e anche il bambino che ricorda appunto questa connessione questo concetto tra passato e futuro quindi visto che siamo qua con l'associazione è anche la memoria viva che il suo scopo è quello di ricordare il passato e il senso anche del logo è riconsiderare appunto il concetto di passato e di collegarlo al futuro cioè bisogna comunque non bisogna ecco seppellire il passato ma ricordarlo per affrontare meglio il futuro il senso del del logo è stato creato principalmente per questo gire tutto intorno a questo concetto molto bello noi questo logo qua lo useremo adesso perché il 18 faremo una lunghissima diretta che finirà con una messa anche e riproporremo tutti questi incontri dalle 10 di mattina e useremo questo tuo logo su tutta la diretta ovviamente ci sarà anche questa diretta perché le riproporremo tutte riproporremo dall'inizio alla fine il video completo di Renata che ci farà questa visita a Cracovia con quello che abbiamo già visto quello che abbiamo visto oggi e quello che vedremo il 18 quindi avremo una visione d'insieme di tutto ne approfitto visto che è arrivata anche Daniela tu torinese adesso sei diventata romana poi tu sei un po' pimentese un po' meridionale infatti direi di sì perché papà è calabrese mamma mamma sì è pimentese di nascita mio nonno era dell'Alta Savoia insomma anche lì c'è un miscuglio però ecco lei è nata a Susa quindi insomma ecco sì sono torinese tu nella tua attività professionale hai mai incrociato qualche racconto che riguardasse il Papa Giovanni Paolo II hai mai avuto ma guarda ti dirò io personalmente anche se ero una ragazzina non mi ricordo esattamente l'anno però mi ricordo perfettamente quando il Papa venne a Torino e fu 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 una giornata incredibile fu una giornata in Piazza Vittorio in cui io c'ero e in cui c'era talmente tanta gente che non si distinguevano gli orizzonti da 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 Piazza Vittorio verso Corso Cairoli verso tutta la parte anteriore al Po quindi tutta la Precollina cioè io ricordo questo io ricordo di quel giorno e sinceramente ebbe anche la fortuna di essere abbastanza avanti insomma dalle ero dentro dove c'erano le sedie adesso non ricordo forse mia mamma era uscita insomma ecco quindi ricordo di averlo visto fisicamente questo insomma questo è ripeto quel giorno a Torino io me lo ricorderò tutta la vita ma non solo io perché a Torino ci sono state tante manifestazioni importanti e nell'arco degli ultimi 30-40 anni ce ne sono state che hanno raccolto popolo però credetemi che quel giorno lì la preparazione l'emozione l'entusiasmo l'organizzazione di quei giorni a Torino sono stati veramente qualcosa di incredibile guardate mi emoziona veramente a parlarne non ne avevo mai parlato prima d'ora tu piccolissima ma anche Stefano Andreotti tu Stefano l'hai mai visto proprio di persona Giovanni Paolo II? io sì una volta sola veramente cioè qualche volta sono andata in piazza alle udienze insomma quando si affaccia alla domenica quando si affacciava la domenica alla fine San Angelo sì l'ho visto una volta quando andava a portare la corona il giorno dell'immacolata l'8 dicembre il papa va sempre a piazza Mignanelli che è a fianco a piazza di Spagna che c'è la corona una donna e i papi portano la corona e prima passava da una piccola chiesa che c'era via Condotti che si chiama l'attività degli spagnoli e mi avevano detto io avevo mio figlio che aveva allora forse 6 o 7 anni e portai mio figlio e c'ho un bellissimo ricordo della fotografia del papa che accarezza mio figlio quello che ha detto adesso rimangono verso tutta la vita molto spessi sono ricordi personali che però credo uno non si possa dimenticare volevo vedere adesso non lo vedo ma poi quando lo ribecco ma lui ci sente Cristian Lucisano per capire se lui invece aveva mai avuto occasione di incontrare Giovanni Paolo II Cristian tu hai mai avuto occasione di incontrarlo? Sì io l'ho avuto se mi sentite sì adesso sì mi sentite? Sì ok io sì l'ho avuto l'occasione io ho anche una sorella disabile per cui ho avuto occasione di vederlo da vicino per la benedizione e l'ho visto tre volte proprio da proprio attaccato certo è un'emozione credo non da poco a me era successo quando era venuto ma Ratzinger era a Romano che grazie ai buoni uffici del Cardinal Bertone avevamo avuto accesso a un'intervista con Bertone poi all'udienza però sono emozioni che è difficile dimenticare facendo questi incontri scopriamo delle cose abbiamo scoperto il museo di Lecombe dove manca una foto di Andreotti con Giovanni Paolo II che Stefano farà avere al museo di Lecombe abbiamo scoperto il reading dicevamo l'altra volta di Daniela per quanto riguarda invece Lidiana Segre abbiamo scoperto luoghi e legami fra Roma Aosta Cracovia Ugo riusciremo magari non quest'anno perché non ce la facciamo è inutile il prossimo anno a mettere insieme Stefano Andreotti Daniele Affazzolari ci portiamo tutti a Cracovia tutti a Cracovia all'Istituto Italiano ci facciamo una due giorni per fare 101 facciamo la carica dei 101 ci inventiamo Carrotta ci inventa in logo della carica dei 101 vendiamo tutti a Cracovia con tutta la popolazione del canavese l'abbiamo programmato e lo faremo senz'altro io volevo ricordare a Stefano Andreotti che l'onorevole Andreotti è stato il creatore dell'Istituto di Agricoltura di Cracovia è stato lui il creatore proprio in quella visita di Stato qui quando ha incontrato Ieruseschi e poi durante l'onore scusa per cui sarebbe anche una bella cosa anche di portare perché abbiamo proprio il documento finale della proposta di Andreotti grazie mi fa molto piacere e sicuramente faremo questo evento perché il Ministero degli Affari Esteri come sapete tutti ha celebrato qualche anno fa il 25 anni del papato di Giovanni Paolo II e la prima tappa è stata Cracovia io sono venuto qui in missione appunto con tutta una delegazione ministeriale anche del Presidente della Camera Casini a onorare appunto Giovanni Paolo II quindi sarebbe un bel ritorno assolutamente e poi con questa ricchezza adesso di contenuti con un percorso storico guidato da Diego e da Renata sarebbe veramente una bella cosa io direi che possiamo una grande memoria allora Diego vai Diego sono ah sì lei aveva peraltro anche una grande Diego è già sottotemporale perché dice che stava per arrivare il temporale da lui è già sottotemporale comunque in attesa che ritorni Diego il titolo ce l'abbiamo la carica dei 101 per il logo per il logo ci affidiamo a Carlotta poi con con Daniela e con il regista ovviamente ci inventiamo qualcosa da fare da portare lì ci inventiamo un piccolo reading da fare così ce lo facciamo le guide ce le abbiamo la memoria ce l'abbiamo visto che Stefano può portarci il ricordo del papà che è stato ricordava Ugo fra l'altro quello che ha voluto l'Istituto Italiano di Cultura a Cracovia quindi direi che e poi Alessandra Ferraro che potrebbe accompagnarci perché ci parlerebbe di tutta la parte valdostana di Lacom Diego e Renata ci parlano di Cracovia Carlotta ce la rappresenta graficamente Daniela ce la rappresenta invece personalmente facciamo una di quelle rimpatriate a Cracovia dai dai la organizziamo per il prossimo anno ci prendiamo il tempo fino al prossimo anno intanto per fare il 101 perché poi il centenario lo fanno tutti il centenario lo ricorderanno tutti noi facciamola il 101 potremmo anche approfittare di quest'anno in autunno si potrebbe fare senza andare troppo lontano sì è complicato mettere assieme tutti è complicato il problema che poi deve fare un logo con la carica del 101 è difficile è vero no ma lei la fantasia ha dimostrato di averla dai qualcosa si troverà qualcosa si troverà no sarà più difficile per Daniela invece lì no le poesie di domani appunto voglio dire di materiale penso che ce ne sia bizzeffe io lascerò sicuramente a voi anche la scelta che siete più aggiornati di me ma anche una lettura recitata del documento di creazione dell'istituto dell'agricultura di Cracovia per esempio certo per esempio anche abbiamo abbiamo le lettere di Giulio Andreotti del Papa di Andreotti quindi abbiamo materiale per fare un piccolo reading teatrale ce l'abbiamo ci organizziamo ecco ma cosa c'è il temporale da te perché no sono due voci e lui si spaventa e lui si spaventa e lui ha internet e l'iPad che ha smesso di funzionare lui è come i romani i romani chiamano in un ufficio stamattina piove e non vengo a lavorare non mica come te che c'è la connessione pagata dal ministero ecco è un momento di crisi occhio che abbiamo abbiamo due romani qua Stefano e Daniela ma insomma da adozione ricordavo ricordavo che c'è una storia molto bella di Giovanni Polo II quando torna come papa in viaggio a Roma uno dei primi viaggi e il capo della comunità ebraica polac presenta il capo della comunità ebraica di Cracovia Jakubowicz e praticamente Giovanni Polo II lo guarda negli occhi dura qualche secondo e Jakubowicz racconta che aveva paura di avere le scarpe sporche perché c'è questo silenzio e mi guardo giù e cosa sta succedendo se non mi fa il figlio di Maciej e praticamente Giovanni Polo II ricordava che quando era piccolo e andava a scuola giocava con il padre del capo della comunità ebraica di Cracovia a calcio quando avevano 7-8 anni in quel paesino di Vadovizia perché anche il padre di quel signore arrivava laggiù per l'altro Jakubowicz è sopravvissuto all'olocausto è stato nel campo il riconcentramento di Quascio aveva vissuto l'ultimo anno in mezzo della guerra nascosto nei boschi e lui non se lo aspettava e vede il papa che alza gli occhi lo guarda e dice ma tu sei il figlio di Maciej ma ricordava ancora quel suo padre perché saranno conosciuti da bambini il cognome è stato sufficiente per aprirgli un cassetto della memoria di quando aveva 6-7 anni pazzesco bello ma ecco questi episodi magari così come quelli che ricordava Stefano degli incontri fra fra suo papà e Giovanni Paolo II li potremmo mettere insieme magari per davvero fare un ritratto di Carol Voitiva che è un po' diverso come quelli che ci racconterà anche il 18 Alessandra Ferraro dalle combe lei l'ha incontrato parecchie volte quindi ha degli aneddoti Cristian ce ne diceva alcuni da intro quindi potremmo disegnare una figura di Carol Voitiva con un piccolo reading attraverso questi episodi minori che però danno il senso le testimonianze certo le testimonianze che danno il senso della grandezza della persona perché poi le persone sono grandi quando riescono ad apprezzare le piccole cose le grandi cose le sapriamo apprezzare tutti ovviamente per Renata visto che siamo in collegamento noi abbiamo la tua ultima parte che ci hai già mandato la prossima al prossimo incontro invece parleremo di Carol Voitiva lavoratore e poi ho visto ma è lì che lavoravo ho visto un torrente mi sembrava uno spazio verde sembra un parco ma lavoravo lì c'era il parco quando lavorava Zakschowek adesso è un posto bello per ricreazione ma prima c'erano le cave di pietra io forse non ho detto che io sono rappresentante della generazione in Polonia che era testimone di tutti i pellegrini di Carol Voitiva a Cracovia io in qualsiasi modo ho partecipato in tutte le visite di Giovanni Paolo II a Cracovia e ricordo che sono stata anche a Centohova durante i primi giorni mondiali di gioventù io sono vecchia c'era se ricordo bene 1986 ecco Carol Voitiva quando era vescovo arcivescovo ricordo che lui ha celebrato una messa nella cattedrale di Babel occasione del primo anniversario della mia prima comunione ho già detto nei filmati esatto io peraltro conosco una guida di Cracovia perché oggi non più ma le guide di Cracovia una volta avevano il privilegio parliamo degli anni 70 60 70 avevano il privilegio di potersi sposare nella cappella più bella della cattedrale di Cracovia che era la cappella dei degli agelloni fatta da artisti italiani Bartolomeo Berecci e le guide di Cracovia avevano questo privilegio di poter chiedere di sposarsi lì chissà per quale ragione e conosco una signora che è stata in pensione già quasi 90 anni però che si è sposata è stata sposata da Giovanni Polo II cardinale di Cracovia nella cappella degli agelloni nella cattedrale di Cracovia e ho un'altra amica sempre guida che ricorda quando era piccola che siccome suo padre aveva un negozio di alimentari nel mercato rionale qui di Clepage Giovanni Polo II andava sempre lì da vescovo a comprare i formaggi eccetera e la prendeva sulle ginocchia tranquillamente sono storie che qui a Cracovia girano ancora al giorno d'oggi certo con testimoni peraltro Renata anche la tua famiglia aveva legami poi con quando Carol ce l'hai detto nel video dell'altra volta vero? sì 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 perché la mia famiglia abitava di fronte alla chiesa di San Floriano dove Carol Voitua era vicario da giovane il mio nonno era sarto ha conosciuto personalmente Carol Voitua perché cuciva a volte pantaloni per Giovanni Carol Voitua quindi riutilizzava i pantaloni non li ricomprava nuovi nonostante erano tempi difficili per tutti quindi questo è testimonianza anche della semplicità di un vescovo io andavo nelle montagne con Carol Voitua perché era pastore dell'anime dei giovani anche nella parrocchia di San Floriano c'è anche un album ma mia zia ha questo album dove c'è la foto mio zio insieme a Carol Voitua in una gita nelle montagne certo ecco perché poi ci hai ricordato ma non svegliamo tanto quel masso che vedremo nel filmato il 18 perfetto allora io direi che ho abusato come sempre più di un'ora della vostra pazienza noi vorremmo fare questi incontri in 35-40 minuti arriviamo a farli sempre un'ora e mezza perché stiamo bene insieme esatto bravo comunque per la messa del 10 c'è qualcuno del gruppo che si vuole candidare per cantare l'ho saputo ma non vuole ancora dirlo qua ufficialmente uno che si è vantato ultimamente di essere un grande cantante avrebbe voglia di provare a io faccio un nome Ugo se tu si senti colpevole ce l'ho in causa eccolo per sfidare di noi il 18 manderemo anche in diretta un omaggio al professor Narensky il commissario per il paletti per cui dalle 10 alle 12 noi saremo lì sotto il balcone perché come sapete ricorre anche l'anniversario della nascita del professor Narensky che purtroppo non sta tanto bene e io gli canterò una canzone che sentirete in diretta e Diego rimarrà a bocca aperta ci si nel bene o nel male peraltro rimarrà a bocca aperta noi noi non staremo collegati due ore solo quei 10 minuti in cui ti arrestano perché lì ti arrestano non puoi stare abbiamo vabbè non dovrei dirlo in diretta però abbiamo usato uno strategico entreremo dal giardino lui si può permettere queste cose perché lui è passaporto diplomatico al massimo arrestano questo è il problema il problema è vero tu non hai questi privilegi chi rischia sono io quel quarto d'ora per vedere se vi arrestano no intanto come canta perché Ugo lo arrestano o perché non può fare quella cosa perché non è un assepremento o per come canta o per come canta comunque una delle due non la scampi non so non arresteranno solo me ma tutta la delegazione anche scolaresca che ha dedicato proprio ha scritto una canzone una scolaresca di un liceo di Tlacovia una canzone proprio in onore per chi non conosce il dottor Naremski è stato uno dei giovani che ha partecipato alla liberazione a Cassino dell'Armatander la Bologna il secondo corpo d'armata del generale esatto sì e che è anche quello del famoso orso che si chiama quasi come lui e che lo confondono con lui e lui si arrabbia perché dice l'orso io il nome è quasi lo stesso ma lui non è l'orso comunque orso il quale hanno fatto un monumento anche era la mascotte del secondo corpo d'armata portato a piedi l'orso dalla Siria fino a Roma ed era la mascotte ed è stato trasportato in nave dall'Egitto dalla Siria sono partiti dalla Siria hanno preso in Siria e hanno portato verso l'Iran fino a Brindisi portato a Brindisi solo perché lo hanno arruolato come soldato perché gli animali non potevano entrare nelle navi quindi l'hanno arruolato come soldato aveva la sua targhetta come soldato quindi l'orso è diventato un soldato e come soldato potesse salire sulla nave quindi l'unico corpo d'armata che fra i suoi soldati aveva un orso una storia bellissima anche quella ce l'ha raccontata quando si guandava l'arrivo aveva il cavallo e loro avevano l'orso va bene dai è bellissimo adesso posso intervenire quando vuoi allora a proposito di testimonianze a proposito di testimonianze vi voglio far vedere questa benedizione che vale si aspetta che vedo se riesco a metterla io l'ho avuta perché lo zio di mia moglie era missionario in Argentina ha vissuto sempre in Argentina da quando è stato nominato sacerdote i salesiani l'hanno mandato in Argentina è stato sempre là ci ha fatto avere questa benedizione papale quando lui è venuto a Roma ed è stato per un certo periodo in Vaticano aveva conosciuto il Papa aveva parlato con lui e volevo solo raccontarvi perché questo zio e il suo vescovo era l'attuale Papa quando era Buenos Aires era l'attuale Papa era il suo vescovo per cui mettiamo in comunicazione i due papi sì penso a te gli intrecci come ci portano ecco la prossima volta quando parleremo ancora del Papa perché oramai non c'è più tempo volevo mettere in relazione il papato di Papa Giovanni Paolo II quando è stato un polacco che doveva è stato messo a fare il Papa anche perché c'era un fine anche politico verso i paesi dell'est e il Papa di adesso che viene da Sud America un Papa che comunque è stato messo diciamo per che si rivolge di più verso i più deboli ecco certo tu pensi che noi domani la prossima volta domani noi avremo Don Genesio Tarasco domani alle 10 che peraltro era l'economo dei Salesiani quindi in questo caso un po' di collegamento sicuramente ci sarà non solo perché parleremo di Giovanni Paolo II ma perché parleremo delle missioni quindi in questo caso certamente avremo collegato quello che è il lavoro che fanno i missionari nel caso di tuo zio domani mattina alle 10 e parleremo dei missionari proprio sicuramente quindi chi di voi vuole esserci ovviamente benvenuto allora io vi ringrazio tutti per questo spassosissimo incontro perché è sempre un piacere io vi comunico sempre cioè Roberto poi in realtà vi comunica sempre quando facciamo questi incontri quando volete ma vale anche per Carlotta che vedo so che sei occupatissima a disoccuparti però quando vuoi partecipare vale per Stefano vale per Daniela teniamo vivo questo gruppo perché così non convinciamo Ugo a fare qualcosa di importante a Cracovia ok? Cantare intanto comunque io non farei molto affidamento sul mio intervento lunedì però nel caso nel caso in cui mi arrestino le 10 io ho quelle 3 purtroppo se non mi vedi arrivare vabbè tieniti pronta Renata non andare solo tutti e due perché se andate tutti e due vi arrestano tutti noi rimaniamo senza guide da Cracovia o l'uno o l'altro affido su un invio di arance nel caso esatto ci pensa Renata che è lì noi di qua non possiamo neanche farle arrivare deve essere Renata per conto nostro va bene no ma se diranno loro perché almeno devono parlare con la polizia in polacco giusto è anche quello no in questi casi la miglior tattica è quella di dire non capisco non capisco non capisco io non so io non so guarda l'abbiamo fatto per una multa evitata proprio davanti all'istituto italiano di Cracovia l'ultima volta che siamo andati perché avevo parcheggiato i furgoni lo sapevo che non puoi metterli sul marciapiede allora quando in zona pedonale sul marciapiede col furgone è arrivata una pattuglia e ci ha bloccati l'unica cosa che abbiamo saputo fare e abbiamo visto che parlavano inglese abbiamo detto Cribbio se parliamo inglese qui dobbiamo spiegare cose inspiegabili diciamo che non sappiamo neanche l'inglese parliamo solo l'italiano a gesti ci hanno fatto capire che se ci toglievamo da lì ce la saremmo cavata e allora ce la siamo cavata così Ugo puoi fare lo stesso mi manda Rufino per cui te hanno ho detto anche mi manda Rufino perché se c'era qualcuno da mettere in galera sapessero chi io dovevo tornare tu sei lì io dovevo tornare non potevo dopo il cardinale il sindaco Rufino è la terza autorità della città sì sì infatti ma anche il suo dipendente chi era lì che ci ha aperto anche lui faceva il nome di Rufino perché il capo è lui e quindi scaricavano tutti va bene ok anche questa questione diti un saluto saluti grazie a tutti grazie a voi ciao 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 ciao